Siamo qui oggi a SMAO per vedere insieme come la Tunisia è una piattaforma favorevole per gli operatori e gli investitori italiani che si interessano a sviluppare le loro attività in questo paese. Oggi la Tunisia è molto avvantaggioso per gli operatori italiani, c'è la vicinanza della Tunisia, c'è anche un quadro legislativo e normativo favorevole per l'investimento e un'infrastruttura in crescita e favorevole per sviluppare attività dell'ICT. Quindi la FIPA Tunisia è a vostra disposizione per conoscere meglio le opportunità e le potenzialità della Tunisia nel settore dell'IT.